e james ti ricordo che dall'altra parte della mappa prendendo saltino c'è lo spender ok io penso che c'è chi non sono contento anche l'altro ha preso fucile da cecchino in culato proprio di brutto non mi ha neanche detto piegati è entrato e basta al primo appuntamento senza neanche esserci mai visti che che rozzo proprio trattato fosse la sua squaltrina e solo devo scorpion me lo ricordo il nome va te me lo occupa scorpion de merda dai non ho ucciso neanche uno con le granate che io tirato lì ma porca miseria due assist uccisione ho fatto però pensa quanto è servita la allora signori c'era uno scorpion uno spanker qua c'era uno spanker qua che nessuno ha usato no polli che non siete altro allora volete morire proprio male mamma mia dall'altra parte della mappa mi ho ucciso uno e ne ho ucciso un altro ce ne sono ancora e ne ho ucciso un altro bravo mai no chi è che mi ha fatto l'assist che io 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 va bene datevi lo spanker vi cambierò le sorti della partita